Cari amiche e cari amici di Barbassofia, la morte di Elisabetta II, regina d'Inghilterra, è un fatto politicamente e storicamente rilevante. Muore una regina longeva, muore la regina d'Inghilterra, una delle più antiche monarchie del mondo, muore in un momento anche di instabilità politica, economica, europea e mondiale. La morte dunque della regina Elisabetta è un fatto importante, è stata la regina dell'Inghilterra dalla seconda guerra mondiale sino appunto alla guerra in Ucraina, sino alla pandemia, al Covid, regina di un'epoca densa, quella della guerra fredda, dell'età dei consumi, regina del decolonialismo o del perpetuarsi del colonialismo inglese. regina dunque per 70 anni della più grande potenza coloniale del mondo, anche solo per i secoli in cui è durato e ancora dura il colonialismo inglese. Dunque un fatto politicamente importante, la regina anche dell'affaire Carlo e Lady Diana, il divorzio, le polemiche sulla morte di Lady Di. Dunque una regina di avvenimenti storici, politici, importanti, rilevanti, che però nel momento in cui muore viene completamente appiattita sulla dimensione d'icona pop, viene completamente appiattita la regina d'Inghilterra Elisabetta II in una dimensione di gossip, di pettegolezzo. È vero che la Royal Family di fatto è la famiglia del gossip, del pettegolezzo, gli intrighi di corte, le nemicizie, le avidità, i matrimoni, i tradimenti, le serie tv, i libri sulla corona inglese fanno vendere, sono sempre dei grandi successi e come vi ricordavo la scorsa volta, parlando dei politici su TikTok, siamo più che mai da decenni nella società dei consumi, dunque tutto è un prodotto da vendere e la Royal Family è il prodotto da vendere per eccellenza in Inghilterra ma anche nel mondo. Però quello che balza gli occhi da ieri è l'assenza di un giornalismo almeno di medio livello che in questo momento riesca a produrre una narrazione, non vi dico critico, storica, dettagliata e dunque non delle conferenze, delle monografie storiche in diretta tv, ma un giornalismo almeno che riesca in maniera, ripeto, moderata, dignitosa a fare un bilancio politico storico per il grande pubblico in prima serata del regno di Elisabetta II, 70 anni di regno, il secondo regno più longevo della storia dopo quello di re Luigi XIV, dunque il re di Francia, il re sole che però fu già nominato re da bambino. Invece si assiste all'iconografia pop, si insiste sulla dimensione pop, i cappellini, il look ha sopportato tanto, tenera, dolce, ha subito o no anche gravi pesi della storia, ha sopportato gravi pesi della storia, tutto veramente presentato in una salsa rosa melense che non rende veramente onestà alla figura complessiva della regina, che banalizza, ecco noi siamo sempre di fronte alla banalizzazione degli eventi, eventi banalizzati, eventi mercificati, eventi venduti poi per veramente soddisfare la pancia dello spettatore, del lettore, di quelli che balza per un secondo in rete, che passa su un canale YouTube o che accende la televisione generalista o guarda degli speciali. Tutto è veramente condito in modo melense, tutto è cronaca rosa, tutto è gossip e tutto ciò veramente addormenta le coscienze, ma non perché ci sia un grande fratello che voglia addormentare le coscienze, perché questo ormai è il mainstream. Tutti i morti sono buoni, ma certamente rispetto per i morti da Gorbaciov alla regina Elisabetta II, ma poi quando si raccontano le morti delle personalità importanti non si può fare l'apologia o non si può ripiegarsi solo sul privato, sulle vicende appunto biografiche private, perché la regina Elisabetta è la regina di un regno, di un regno come quello dell'Inghilterra, che è una monarchia costituzionale certamente, è una monarchia parlamentare, perché poi la costruzione in Inghilterra non è una costruzione scritta, ma si fondano sulle norme reiterate e pregresse, si fondano le leggi, anche le istituzioni e la vita dunque dei sudditi della corona. Partiamo da qui, magari muore la regina e discutiamo oggi qual è il senso di essere ancora suddito. C'è un senso? Sì, discutiamo, parliamo, magari dentro una serata, come quella di ieri sera, quella di stasera, di domani, al di là del vestitino, degli intrighi di palazzo, dell'amore, del popolo inglese verso la regina, chissà se è solo così, se è solo amore, diamo spazio anche a qualche voce critica, qualche analisi di spessore. Oggi, a Senso, nel 2022, parla di sudditi, di corona, vuol dire che non si è uguali per sangue, non si è uguali, una modalità che accettiamo ancora, uno può dire sì perché è meglio avere dei re buoni anziché avere dei presidenti eletti che sono degli schifosi, ma non è questo il problema. Quindi dicono, ma meglio la regina che è un elenco di presidenti del Consiglio italiano, Presidente della Repubblica, ma non è questo il modo, perché stiamo parlando di istituzioni politiche, uno può essere un buon re, può essere un cattivo re, un buon presidente, un cattivo presidente. Il problema è oggi, 2022, il senso della monarchia, del sancire, ha ancora differenze per natura, per sangue, dunque non per cose che scegliamo anche in maniera artificiale, però che si può conquistare, può essere il denaro, l'intelligenza, può essere un test, può essere un curriculum, funziona ancora la monarchia, parliamone, poi c'è questo veramente macigno che continuiamo a rimuovere, a rimuovere, si chiama colonialismo, si chiama imperialismo, niente, bisogna eliminarlo. La regina Elisabetta, tenera, brava, sopportato un figlio, non so, non all'altezza dei nipoti non adeguati, non lo so, un povera proprio Pignone, può non sopportare Camilla, mamma mia, Lady Diana, quante le hanno fatte vedere, ma al di là di questo, va bene, la regina Elisabetta è stata regina durante gli anni della decolonizzazione, soltanto in Africa, durante il suo regno, rimane il capo di Stato non è la protagonista solo di una soap opera, non è soltanto una persona importante che va a un party, non è soltanto la real family, un meme, un gossip, vestiti, feste, parrucche, trucco o corone, è un capo di Stato, di uno Stato, quello inglese, che negli anni della decolonizzazione ha inviato, e la responsabilità è del governo, ma anche del capo di Stato ha inviato l'esercito a reprimere le rivolte, ad esempio di coloro che volevano l'indipendenza, la sovranità in Kenya, la rivolta dei Mao Mao, va bene, la repressione nell'Indonesia, le politiche verso gli aborigeni australiani, dei governi fedeli dentro il comune della regina d'Inghilterra, la repressione, va bene, la repressione, questo discorso l'ho fatto anche per Churchill, grandissimo statista, ma rispetto ovviamente ai popoli che negli anni 20-30 era ministro, il primo ministro, 40-50, chiedevano libertà, Churchill usò il pugno di ferro, una violenza inaudita, a Bellupo può anche dire giusto o non giusto, era necessario, ma presentiamo un personaggio politico nella sua complessità, alla regina andava bene, questa violenza contro chi? Contro gli schiavi, contro i colonizzati, contro i popoli che devono essere sudditi della corona, della regina, dell'Inghilterra, ne parliamo di questo, in Indonesia la repressione fu durissima e nell'Iran, quella che era la Persia, dello Shah di Persia che era alleato degli inglesi e non volevano gli inglesi concedere l'indipendenza all'Iran, quanta violenza, uno però ricorda l'eleganza della regina o dello Shah di Persia o tanto altro, ma c'era violenza perpetuata dall'alto verso il basso, la possiamo ricordare questa violenza? Questi sono elementi politici e dell'Irlanda? Gli irlanderi ci piacciono soltanto per la musica, per la birra, il Sunday Bloody Sunday, la Domenica di Sangue, le carceri inglesi, i pini d'irlandesi, la repressione, ma non è la regina, è anche la regina perché, ripeto, è il capo di Stato, era il capo di Stato e Carlo III, mamma mia che titolo, che nome, Carlo III, Carlo I ricordo è quello che fu decapitato, antrenuto inglese e poi la Repubblica dittatoriale cesaristica di Cromwell e poi suo figlio Carlo II ritornò al trono, in seguito anche le violenze per parte da Cromwell, ma vogliamo ricordare appunto che il re Carlo III oggi sarà capo di Stato, come lo era, sua mamma Elisabetta II e dunque c'è una responsabilità politica rispetto alle politiche violente contro l'Irlanda del Nord, contro appunto il Sinn Féin, contro quelli che loro ricordavano come terroristi, contro l'Ira, con tutti quelli che lottavano per avere l'indipendenza a bene dell'Irlanda del Nord, va bene? Questa è anche la figura di Elisabetta II, invece bisogna cancellare tutto, popcorn, patatine, bibite cassate, guardiamo lo spettacolo, la corona, i gendarmi, il cambio della guardia, il lutto, le lacrime, i cappellini, i parti, i tradimenti, lo sceneggiato, la fiction, le serie tv e appunto i suoi vestitini, la carrozza, l'oleogramma di questo, ci dobbiamo nutrire di questo, in modo tale che giorno dopo giorno la nostra coscienza politica vada appunto sempre a diminuire, a scemare, invece ancora parlare di discutere cittadinanza, sudditanza, democrazia, sovranità, poter decidere sulla pace, sulla guerra, poter decidere sul tema fiscale, poter decidere, va bene, sui grandi temi, istruzione, sanità, energia, poter decidere, va bene, di queste cose in maniera critica, capire queste cose, per capire queste cose servono a narrazione dei grandi eventi che non sia gossip, ma che sia politica, poi ha un buon carattere, fumite, fu tradita dal principe di Edimburgo, ma lei lo può ridurre sempre, tutte cose che possono anche essere interessanti, ma non può un regno di 70 anni ridursi a un cappellino, a un sorriso, alla gentilezza, a un tailleur, non può, se ci danno in pasto la narrazione simile noi dobbiamo dire no, cercarcene di alternative, capire cos'è stato, perché il colonialismo inglese e quello francese, due patrie delle democrazie, del parlamentarismo, della sovranità popolare, due patrie importanti di diritti umani, civili, sociali e politici, però le politiche imperiali, coloniali di questi due paesi, sono state terribili di una violenza nell'Africa e nell'Asia inaudita, teniamone conto, quando parliamo di queste cose, quando raccontiamo la storia, raccontiamola tutta, altrimenti il resto è pettegolezzo.